bello tra ragazzi in questo nuovissimo vlog come trovate in descrizione ma oggi vi farò vedere come si usa sto a fare qua esattamente il whiteboard ve lo metterò pure in descrizione se riesco è un pezzo di plastica che si muove così con due ruote, composto di due ruote che girano così così si usa, si muove così, in teoria questo qua va bene questa qua doveva muoversi pure quella lì come questa qua molla ma non so si era rotta la molla credo così e niente, ora vi spiegherò passo per passo come si usa così, un piede davanti, così dopo ci si muove così così come vedete è troppo piano per andare più veloce bisogna spingere intanto con il piede così dopo muovere così vedete, così o se no per chi sa, già andarci così c'è il mio cameraman che va troppo lente e neanche mi segue spero che si senta l'audio se si sente scrivetemi sotto seguitevi su Instagram, Facebook Luca Giusto musical.ly non serve più andiamo a 10 like con un amico Marco che lui ovviamente mi filmerà farò challenge e provo a giocare a basket sempre in sto parco qua sto parco qua ok e proverò a far canestro così con il wearport arriviamo a 10 like e niente arrivederci a tutti e al prossimo vlog e al prossimo vlog